Buongiorno, benvenuti a Bussi San Giorgio, ancora una volta nel nostro auditorium principale. Oggi vi presento un sistema semplice, ma delle prestazioni stratosferiche. L'idea è di proporre un sistema per coloro che veramente non vogliono avere nessun compromesso e ad un prezzo che rimane ancora abbordabile. Quindi sì, non è un sistema economico in sé, ma credo che non si possa fare meglio a prezzo inferiore. Naturalmente qua c'è nessuno che non sarà d'accordo, ma per la nostra esperienza e per la qualità del materiale che utilizziamo credo che l'alternativa siano compromessi. Bene, veniamo all'idea. Oggi vi presentiamo il nuovissimo Audia FLS20. Si tratta di un lettore di CD-SACD DAC arrivato recentissimamente da Audia. Permette anche di montare una scheda streamer di alta qualità. Ha collegato all'integrato Audia FLS10. L'FLS10 non è una novità, però possiamo dire che sì anche, perché è stato rivisitato completamente. Nell'arco del tempo ha subito tantissime modifiche. Preamplificatore è praticamente stato completamente rifatto. Tutto il sistema anche di alimentazione è stato ritrattato, tutto rivisto. Insomma, a questo punto l'FLS10 è arrivata alla sua maturità e per me è uno dei migliori integrati che esistono al mondo. Di fatto può pilotare tutto. Noi in questo auditorio, su questo scaffale mettiamo quello che per noi è il meglio che abbiamo e che è capace di pilotare qualsiasi altavolce, qualsiasi diffusore che abbiamo qua. Sinceramente abbiamo una piccola collezione TAD che è incredibile e posso garantirvi che questo integrato debba funzionare tutte. Ha una capacità di erogazione di corrente infinita e tanto per dire DeepTik lo consiglia, il distributore americano lo usa normalmente e anche le Magnepan che non è che siano considerate molto facili come diffusori. Quindi ecco, l'idea è associare il CDS-C di Audi sempre ad Audi all'FLS10 e pilotiamo le più piccole delle casse, tra virgolette, TAD piccole. Sono delle colonne due V e mezzo, due woofer che si attaccano direttamente al Twitter in beriglio che permette di arrivare fino a 60.000 Hz. Quindi sono delle casse molto molto particolari. La loro resa acustica è fantastica. Bene, possiamo ascoltare il sistema.